Signori, oggi il nostro caro Giovanni ci ha invitato a scommettere sulla rottura della macella Cacapa. Lui ha detto che con un colpo solo riuscirà a rompere la tavola. Scommesse quattro birre. Padrone e sott. Com'è? Padrone e sott. Ma lo so. Ma lo so. Ma lo so. Quanti colpi per rompere la tavola? Non lo so. Tre. Quanti colpi? Decide, spirito. Lo decido io. No, no, decida, spirito. Ah, dice, non è tu, ma faccio quante volte. Allora, sei o non sei. You are ready? Sei pronto? Che data? Sei pronto? Vai. Uno, due, vai. E uno è andato, signori. Signori, attenzione, uno è andato. Non è che questo fatto, ma non c'è quanto mi vuole. Non c'è quanto mi vuole, sì. You are ready? Mmh. No, ma te. Non c'è quanto tu. No, ma se non c'è quanto. Sei pronto? Uno, due. Voglio. Ma non c'è quanto. Signore, sei pronto? Possiamo anche cambiare la manzanella, se vuole, signore. No, non c'è quanto tu, non c'è quanto. Anche quello possiamo cambiare. You are ready? Sei pronto? Ah, signore. Oh, sei pronto? Guarda a me. Pronto? Sei pronto? Partezza? No, non c'è. Pronti? Vai. Ti sanno, ma non c'è. Non è possibile, però. Signore, è pronto? vogliamo sappia signore è pronto 12 si arredine è pronto? uno due Giovanni dici qualcosa Giovanni Giovanni ci vuoi ripensare Giovanni vogliamo provare più tardi Giovanni proviamo un po' più tardi Giovanni più tardi più tardi Giovanni alza un po' con la testa Giovanni tutto a posto Giovanni siamo pronti per bene così proviamo Giovanni proviamo signor Giovanni vogliamo provare più tardi va bene ripusiamoci un po' signore allora tutto è rimandato fra un'uretta a dopo